Benissimo, allora dopo la mega figura di cacca, fondamentalmente quello ha fatto Intel, con la A380 che è stata distrutta ovviamente a tutti quanti, noi in primis, da Gamer Nexus l'ha fatta una merda nel suo video recensione ufficiale, Intel giustamente in questi giorni è andata al contrattacco, cioè ha capito che doveva fare qualche cosa per recuperare interesse, chiamiamolo così, ed ha postato sul suo canale ufficiale YouTube un primo video dove si vedono dei benchmark della A750, sempre una Intel Arc, però dovrebbe essere la prima scelta di fascia media, ok? che bene o male ha mostrato delle buone performance con dei test che fanno sperare bene, ma prima di parlare nel dettaglio di questa cosa ragazzi, iscrivetevi al mio canale, ve lo ripeto sempre, siete tantissimi, ma pochissimi di voi vi si iscrivono al canale, guardate i miei video ma non siete iscritti, e se volete darmi una mano, se volete sostenermi nel lavoro che faccio tutti i giorni, vi chiedo di iscrivervi, di andare giù in descrizione, trovate tutti i link per seguirmi sui vari social, potete iscrivermi, possiamo parlare, potete mandarmi tutto e di più, quindi iscrivetevi e andate giù in descrizione. Il video di Intel è stato un video molto molto veloce, appena 3 minuti, giusto per buttare un po' di benzina su un fuoco che si stava spegnendo fondamentalmente, e ha mostrato degli ottimi benchmark sulla A750, almeno dal punto di vista assoluto, perché si parla di un 1440p, è stato fatto vedere un primo benchmark in Cyberpunk, dove la scheda bene o male riesce a reggere i 60 fps con dei dettagli alti, non maxati, e poi successivamente sono stati fatti vedere tutti una serie di giochi, Formula 1 2021 contro il Borderlands, dove bene o male, paragonata ad una RX 3060, questa scheda ha un margine di miglioramento sulle performance di circa un 12-13%, in qualche gioco di più, in qualche gioco di meno. Non si parla assolutamente di ray tracing, perché non sappiamo in ray tracing come si comporta, non sappiamo se questi test sono stati effettuati con un qualche tipo di upscaling o di, non lo so, di LSS, FSR2, non sappiamo niente, però a primo acchitto ci viene mostrata una scheda che ha queste performance. Di tutto il resto, ignoriamo ovviamente quali siano i piani di Intel, se questa scheda verrà lanciata a breve sul mercato, se sarà disponibile solo in Cina, se sarà disponibile già anche in Occidente, e cosa fondamentale, non sappiamo affatto quale sarà il prezzo. Perché come vi ho sempre ripetuto in tutti i miei video, le schede video, bene o male, hanno sempre un loro segmento di acquisto. Sono sempre utili per qualcuno, il problema è che le schede video devono essere vendute al giusto prezzo. Guardando i benchmark ufficiali di Intel, che ovviamente non sono mai veritieri a mio avviso, quanto possono essere delle recensioni, diciamo singole, da parte dei recensori autonomi, noi vediamo che questa scheda fondamentalmente ha delle prestazioni simili ad una scheda che già conosciamo. E voi sapete benissimo di quale scheda è, perché io vi sto dicendo da mesi di comprarle, ovvero la RX 6600 XT. Se paragonate in rasterizzazione ad una 6600 XT, questa scheda fondamentalmente è ottima, perché raggiunge bene o male quel livello di performance. Perché vi dicevo che il prezzo sarà il punto cruciale di questa scheda nel momento in cui la vedremo, sarà perché nel momento in cui viene venduto ad un prezzo maggiore della 6600 XT, ovviamente non converrà assolutamente andarsela a comprare. Stiamo parlando di una scheda AMD che ha dei driver leggermente forse più ottimizzati, stiamo parlando di una casa produttrice che ha molta più esperienza, quindi andarsi a prendere una 6600 XT sarà sicuramente la scelta giusta. Ma se Intel riesce a vendere sta scheda sul mercato ad un prezzo inferiore della 6600 XT, allora lì potrebbe convenire andarsi a comprare la 750 perché uno può di fatto risparmiare qualche cosa. Magari i driver non saranno perfetti, magari la scheda non sarà perfetta su qualsiasi tipo di utilizzo, magari Intel potrà migliorare con il tempo, però uno almeno dice cavolo io sta scheda la compro a 300€, vado a risparmiare. Quindi una considerazione singola e totale sarà solo ed esclusivamente sul prezzo se comunque i benchmark saranno questi che noi vediamo. In ogni caso Intel viene fuori con delle schede nettamente in ritardo sul mercato, perché ragazzi considerate che comunque nel RTX 3060 oggi la pagate meno di 500€ è comunque una scheda che sul mercato sta da più di un anno e mezzo. La 6600 XT è comunque una scheda che ormai sta sul mercato da più di un anno e mezzo. Quindi capite bene che se queste schede fossero state lanciate in un periodo precedente, come poteva essere febbraio-marzo, vi ricordate, una scheda del genere avrebbe avuto molto più senso sul mercato, anche se venduta ad un prezzo non proprio perfetto. Ma oggi che le schede sono in calo, oggi che con 380€ voi ve la riuscite a comprare una 6600 XT, capite che è proprio difficile per Intel, a meno che non dia un prezzo eccezionale. E con l'A380 questa cosa non l'abbiamo affatto vista, perché è una scheda che si parla costerà più di 150€ sul mercato occidentale. Quindi è una totale incognita e come sempre, come sempre io che cosa vi dico? Frenate l'entusiasmo e frenate l'hype. Perché sì, lo ammetto, questa è una scheda che ha delle performance decenti e può essere veramente una scheda interessante. Ma dobbiamo vedere tante altre cose. Il prezzo, quando uscirà, che custom, come saranno, quali sono le performance di questa scheda su tutta una serie di applicativi, non solo su questi 5 giochi che ci hanno fatto vedere. Quindi, quanto consumerà? Voglio dire, ci sono delle incognite. Frenate l'entusiasmo, non andate subito a capofitto ad alimentare quel là e poi è uscita la 750€, finalmente una scheda video decente. Perché le schede video decenti ce le abbiamo, ma non da mo'. Ce le abbiamo già da diversi annetti, mesi e anni. Ok? Quindi il primo tentativo sulla fascia bassa è fallito miseramente. Abbiamo un'opportunità di vedere una scheda di fascia media decente, speriamo almeno nel prezzo. Come sempre, scrivetemi, lasciatemi un commento, parliamone insieme, ditemi che cosa ne pensate. Ok, io penso che questa sia stata una mossa di marketing fondamentalmente di Intel in un momento dove la faccenda si stava facendo un po', diciamo, dura per via dell'A380 che è stata recensita. I risultati dei test e delle recensioni non sono stati affatto a favore di Intel e quindi hanno fatto un po' questo giochetti marketing. Quindi questa scheda la dobbiamo vedere con calma quando uscirà e quando sarà in mano ai recensioni. E siccome sarà, già è, fondamentalmente, in mano a Gamer Nexus, io spero che questa scheda venga fuori quando prima, almeno con una recensione ufficiale. Ok? Noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Ciao ragazzi e buona domenica. Ciao a tutti quanti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.